Appena fatto il post partita di Atletico Arsenal sono tornato di là a gol Goal Dell'Olympic Marsiglia dopo una partita eccellente Eccellente da parte del Salisburgo Che ragazzi il Salisburgo secondo me meritava la finale Ma meritava secondo me anche di vincere Perché ragazzi io voglio dire una cosa Chi si sarebbe aspettato che il Salisburgo sarebbe arrivato in semifinale di Europa League Tra Arsenal, Liverpool, Borussia Dortmund Ci va il Salisburgo Cioè ragazzi qua ci dobbiamo alzare tutti in piedi a applaudire il Salisburgo Perché sono usciti ragazzi in un modo incredibile Perché quel gol che ha fatto il Marsiglia al 116esimo minuto del secondo tempo supplementare Non poteva mai essere gol Non poteva mai essere gol Perché non poteva mai essere gol Perché il giocatore per guadagnarsi quel calcio d'angolo ha tirato Ha murato un giocatore della sua stessa squadra Il giocatore dell'Olympic Marsiglia tira Deve un suo giocatore, un suo compagno di squadra L'arbitro non lo vede, i guardalini non lo vede I guardalini di potta non lo vede Danno il calcio d'angolo Da quel calcio d'angolo si sviluppa il gol del 2-1 Adesso mancano ancora 2-3 minuti Ma adesso ormai il Salisburgo deve fare 2 gol in 2 minuti Cosa veramente impossibile Però ragazzi è una fregatoria incredibile Mi ero preparato tutto per vedere i calci di rigori Volevo vedere i calci di rigori Stavo difando Salisburgo Perché secondo me è una squadra veramente che meritava tanto Ha battuto la Lazio 4-1 in casa Cioè veramente è una squadra fortissima Secondo me il Salisburgo Che se lo meritava andare in finale Ma anche di vincerla Inoltre ragazzi Aydara è fortissimo Classe 98 L'ho scoperto questa sera Ma è fortissimo Aydara È fortissimo Ma una fregatura più assurda Così non poteva succedere Prende come Juventus Real Madrid Juventus La stessa identica cosa Però ragazzi La fregatura è che il calcio d'angolo non c'era mai Il calcio d'angolo non c'era mai E questa è un'altra dimostrazione Che se ci fosse stata la VAR Adesso non so se potesse essere intervenuta Per un'assegnazione di un calcio d'angolo La VAR Ma se ci fosse stata In caso che si potesse assegnare Un calcio d'angolo O almeno su azione da gol Grazie alla VAR Si sarebbe annullato il gol Ragazzi Poi nel primo tempo regolamentare Ci stava anche un rigore clamoroso Per il Salzburgo non dato Quindi secondo me Questa è l'ennesima dimostrazione Che l'anno prossimo In Champions League In Europa League La UEFA dovrà mettere la VAR Perché veramente è una cosa incredibile Essere eliminati così Il Salzburgo sapeva scrivere la storia Invece è stata fregata proprio All'ultimo minuto Incredibile ragazzi Incredibile Comunque Sono dispiaciuto per il Salzburgo Perché secondo me se lo meritavano Noi ci vediamo domani con un prossimo video Purtroppo questo è il calcio È bello Ciao